Per aggiungere i dipendenti in i Passant Manager e assegnare i token utilizzando un lettore di gestione, si inizia facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Cliccate quindi su Profili di accesso alla porta e selezionate il profilo di accesso dell'azienda. A questo punto fare clic su Aggiungi un utente e inserire un nome. Compilare quindi i campi restanti. Quindi fare clic su Aggiungi una credenziale. Selezionare il tipo di credenziale e posizionare il token sul lettore di gestione. Il codice e il colore del token si aggiorneranno automaticamente sullo schermo, indicando che l'aggiunta di un nuovo token è avvenuta con successo. Infine fare clic su Salva prima di uscire. Salva prima di uscire.